Il Vangelo di oggi è molto inquietante perché ci mette dinanzi all'evidenza della mortalità umana. È la storia di uno, uno di noi, che tutta la vita ha faticato per accumulare ricchezze e arriva dal punto per cui non ha più bisogno di lavorare e ha così tante ricchezze che può vivere tranquillamente, mangiare, bere e spassarsela. Proprio quella notte, paradosso dei paradossi, gli viene chiesta la vita e il racconto si conclude con una domanda. È quello che hai preparato di chi sarà? Ma forse la domanda più vera è questa. Ma io di chi sarò? Io sarò di colui per il quale sono stato nella vita. Per cui se nella vita sono stato di me stesso, io me ne vado con me stesso. Ma se nella vita sono stato degli altri per gli altri, e che allora il mio nome non si cancellerà mai, sarebbe interessante ogni tanto chiedersi, ma quanti piangeranno per la mia morte? Quanti saranno presenti al mio funerale? Quanti si ricorderanno di me? Ma come fa uno a pensare agli altri? Come fa uno a vivere la vita per gli altri? Solo l'amore di Cristo che ci abita ci apre agli altri. Solo la redenzione di cui oggi parla San Paolo, che da morto al peccato ci fa risorgere lui, fa sì che la nostra vita sia per gli altri. Che ciascuno di noi possa rispondere a questa domanda, io sono degli altri, perché sono stato sempre di Cristo. Buona missio.